attenzione tedesco signori signori iniziamo bene gorezca gorezca non è r9 mamma mia mamma mia ci sta francese mamma mia cioè non ci voglio credere voleva di ab e ha trovato di questo giro veramente molto molto lento mamma mia bellissimo si il world capone è proprio il top del top questo è un grande attenzione no si menda sempre lui se me lo dà buona magari no niente non ci tratta di c'è ragazzi non ce lo dà niente a questo ci mancava è vero talisca dai no niente il portiere mi dà ragazzi se la pagate poco va bene se no lascia riperdere musiana potrebbe dire che non avevo trovato nessuno praticamente bello kimic carino come non invitatemi se volete niente niente brand bellissimo brand non è toz no come se l'è chiamato luca speriamo infatti te le vedi sul televisione vedi anche sul compito le vedi male quale scanno tanto uno ragazzi solo uno 40 vabbè ci proviamo dai ci proviamo ma non so perché che puoi gorezca vabbè 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 dammelo delete mamma mia angelo mamma mia mamma mia bellissimo bello anche io vorrei quel codino matto datemi col codino signori shot e me tanto ma tanto la differenza è un grande giocatore no colo peccato la mandate musiala ragazzi spettacolo quel musiale sliga non sembra così male signori cc brand attenzione chi è tedesco chi è no potrebbe essere musiala bg ma io quando ne prendo faccio vola tutto quanto ragazzi non non me ne faccio troppi di problemi neanche una data quindi zero vabbè 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 si potrebbe essere un bel giocatore comunque niente non credo anche perché sono carte sono carte colose comunque comunque bello kimic vabbè kimic in cipo tedesco brandt bravo dammelo buono tedesco dc senterebbe stento ragazzi sono dentro i server tranquillo proprio oh no full group tedesco dc shot e me erg chissà quanto ti viene a costare assai assai brother non sbagli tedesco dc shot e berg shot e berg fa vedere la pallonezca ma che sto sentendo vabbè delete forte raga tedesco musiala musiala non è no shot e bergorezca francese la croix vabbè dai posso stare harder davvero tra i harder sanì sanì molto arriva tramite il cbc comunque a bello adesso potrebbe essere coretzca no la croix bugia se esce inglese soltanto coretzca tanto lui potrebbe essere bene adaf in pong non male no la croix peccato peccato la croix insomma ragazzi sono contentissimo e figurati bello kimic non è menzione tedesco no full group ancora stasera dipende come sta messo holland brother secondo me non ti preoccupare chi è tedesco attaccante no ci mancherebbe altro oh no fling pong tedesco cc kimic ecco ragazzi ma nè zero zero è interessanti è no full group non ci mancherebbe altro